Giulia Revisore Revisore Buongiorno a tutti, talk prima di pranzo ce la faremo. Dalle style guide, dalle partner library, cosa serve e quando. Con questo talk vi voglio condividere l'esperienza che ci ho avuto negli ultimi progetti su cui ho lavorato che mi ha portato a cambiare un po' l'approccio mentale sul progetto. Se ne è parlato un po' anche nel talk di Carla recentemente. Cioè mi ha aiutato a non generare valore solo per la mia stretta competenza, per quello che posso fare per il progetto, ma cercare di avere una visione più ampia. Quindi cercare di capire quello che serve per il progetto, quello che è utile a tutto il team di lavoro, soprattutto. Partendo proprio da una cosa molto semplice come una disambiguazione terminologica, per esempio, cioè cercare di parlare tutti la stessa lingua, avere un vocabolario in comune. Mi hanno già presentato, mi chiamo Alessandro, faccio delle cose, ognuno ha le sue turbe, ma per lavoro faccio anche praticamente sviluppo e progettazione, sviluppo delle interfacce. Ci tengo a darvi un contesto all'inizio, perché penso che ogni cliente sia una storia a parte, ogni progetto è una storia a parte, ogni team è una storia a parte. Gli ultimi anni si può dire il 75% del tempo che sto sopra il codice lo passo su applicazioni di questo tipo. Sono single page application, web application, quindi già siamo un po' diversi da un sito web, cambia sia l'architettura sia il design. Abbiamo un, diciamo, un primary device che è quello del tablet, per darvi un'indicazione, 1.024 sia un iPad o 1.280 più o meno, ma le nostre applicazioni saranno fruite sempre anche lato desktop. Smartphone, diciamo, dobbiamo essere smartphone ready, nel senso che se qualcosa dovrà essere poi portato, adattato fino allo smartphone non deve essere un gran problema, ok? Quindi dobbiamo considerarlo, ma la parte di test sarà fatta comunque sulla parte primary device, tablet e desktop. Parliamo di progetti molto grandi, quindi applicazioni che hanno un tempo di sviluppo maggiore dei sei mesi, l'ultimo su cui stavo lavorando ha superato i 18 mesi, e sono applicazioni che diventano un progetto, un'applicazione reale, un prodotto che viene dato all'utente finale. Quindi ci sono tutta la parte di deadline, diciamo uno sviluppo incrementale, abbiamo tutta la ciclicità dei feedback, rientro, miglioramenti, nuove features, quindi tutta la ciclicità che c'è anche in un prodotto vero e proprio. E una cosa fondamentale che ha contribuito un po' a cambiare questo mio approccio è il fatto che i team sono dinamici e cross professionali, che intendo dinamico. Il team di sviluppo che inizia a lavorare sull'applicazione non è detto che sia quello fino alla fine, vuoi anche per il tempo. Iniziamo a lavorare in un certo numero di persone, in un certo punto il team diventa più ampio, poi si riduce. Cross professionale, perché ci sono diverse figure professionali che devono lavorare insieme. Chi viene al mondo del design, user experience, interaction designer, user interface designer, front end developer, back end developer, analisti, beta tester, tutte figure professionali che lavorano in queste applicazioni. Da sottolineare che molto spesso non lavoro quindi sempre con i miei colleghi della stessa azienda, ma il team di design per esempio potrebbe essere esterno, lato cliente. L'ambito, per contestualizzarlo ancora un po' è quello finanziario, ahimè, quindi significa interfacce zeppe di dati veramente ricche di informazioni, una business logic completamente spostata al lato client, quindi usiamo, diciamo, dei framework come aveva menzionato sempre, sono stati menzionati anche stamattina, tipo Angular, e il panel dell'hardware non è poi così aggiornato. A parte i tablet che possono essere dei uno o due anni fa, ma il desktop di solito contengono browser, non certo, diciamo, delle ultime versioni, specialmente per il nostro amatissimo Internet Explorer. Bene, cosa mi ha aiutato a cambiare questo approccio mentale che avevo? Il notare questa cosa, il fatto che le diverse figure professionali sono una ricchezza enorme, ma possono anche generare un debito. Sembrano simbolo, probabilmente lo è, ma in realtà il fatto è che io sono un sostenitore della diversità, cioè nel senso ognuno di noi è diverso e questo porta un enorme valore al progetto, al team di sviluppo, perché ognuno ha avuto il suo percorso didattico, il suo percorso formativo, professionale, ognuno ha avuto la sua esperienza e è stato influenzato ognuno da un qualcosa di diverso. È un valore enorme, ma se non c'è un qualcosa a coadiuvare queste diversità, a fare un po' da collante, a generare un'armonia tra il flusso di informazioni e la condivisione delle informazioni, si possono generare dei debiti. Debiti che qualcuno, mi sembra Mattia, ha già menzionato, il debito tecnico e un altro debito che io chiamo il debito di dominio. Il debito tecnico, è stato già spiegato, è quella metafora che utilizziamo per dire che se non intervengo subito in qualcosa la pagherò cara più avanti e noi la paghiamo col tempo. L'altro è il debito di dominio. Non pensate all'applicazione intesa il dominio del mercato o il dominio del lato cliente utilizzatore finale. Pensatela come il dominio delle informazioni che si creano durante il percorso della costruzione dell'applicazione e che si perdono. Perché semplicemente non condivise con tutti o perché le diverse professionalità hanno interpretazioni diverse. Ok? Quindi mi sono detto, va bene, fino al momento prima di iniziare a lavorare con queste applicazioni, io avevo il mio sistemino di frontend automation che fino a qualche anno fa andavo portando in giro orgoglioso con tutti i tool che più ne ha più ne metta, fantastico task runner, una generazione automatica e le style guide. A questo punto mi sono detto, ok, però ricominciamo un attimino da capo, cerchiamo di fare chiarezza, per lo meno cerchiamo di capire se tutti intendiamo la stessa cosa. Sono partito alle style guide, adesso vi annoio 5 minuti con le definizioni. La style guide è un insieme di standard per la progettazione di documenti. Ok, un insieme di standard, va bene, andiamo a vedere quali sono le caratteristiche. È connessa alla brand identity, perché in effetti fondamentalmente una style guide cosa contiene di solito? La style guide è quel documento che all'inizio chi fa design consegna al cliente per fargli assaporare, assaggiare dove vuole andare a parare con il look and feel. Conterrà una palette di colori, uno studio cromatico, uno studio tipografico, ok? Quindi vengono sviluppate da queste professionalità. Raramente sono modificate e non necessitano automatismi, perché non mi è mai capitato che una style guide, una volta che il cliente l'ha approvata, poi venga modificata. Siamo pronti a poterla modificare, a contemplare questa modifica, ma non mi è mai capitato in questi progetti. Il valore che portano quindi una style guide di questo tipo, una volta che l'abbiamo definita in tutto il team, è che orienta lo studio creativo, condivide le informazioni, favorisce la coerenza, perché appunto ne tiene traccia delle decisioni che vengono scelte, sperimenta le soluzioni. Perché? Perché nella style guide noi iniziamo a metterci dentro anche un'ipotesi di qualche componente. Cioè, al cliente gli faremo vedere data la brand identity che ci hai dato, dato lo studio cromatico e tipografico, ti faccio vedere che le tabelle di questo tipo, più o meno penso di farle in questo modo, le liste, gli step, i touch spinner, tanti di quegli elementi che saranno ricorrenti in tutta l'applicazione. Quindi sperimenta già una soluzione. E queste sarebbero già informazioni utili da dare a tutto il team, che avrebbero evitato un palo tremendo copreso con un progetto, perché lato design, e doppia colpa ero pure sul team design, abbiamo deciso di orientare il design all'uso di un framework, Bootstrap. Quindi mettete a nota che ho nominato Bootstrap anche io oggi, per i speaker questo. Era Bootstrap e quindi abbiamo orientato il design verso quei componenti che sappiamo ci offre. Iniziamo, il cliente lo approva, vengono fuori i primi visual, iniziamo lo sviluppo, e dopo il montaggio come arriviamo alla prima storia, in mano al lato sviluppatore, alzano la mano e dicono, no ragazzi ma qua Bootstrap non c'è, abbiamo un vincolo tecnico che dobbiamo utilizzare per forza, PrimeNG che è il porting di PrimeFasis per Angular, tutti i componenti diversi. Allora siamo detti, ok, tanto tempo sprecato a modificare il design per avvicinarlo a quello che offriva il nuovo framework, o personalizzare il nuovo framework avvicinandolo al nostro design, pagandolo col tempo. Sarebbe stato sufficiente che certe informazioni fossero arrivate a tutta la filiera del team, perché di solito questo concetto di style guide, che abbiamo disambiguato adesso, perché io chiamavo style guide in realtà un'altra cosa, quello che vedremo tra poco, queste style guide rimangono solo nel team del design, non vengono condivise con tutto il resto. Quindi, adesso che abbiamo capito, la style guide in realtà non è che ci permette di costruire la pagina, semplicemente ci indica come farlo, ci dà l'indicazione. E cos'è che ci permette di costruire la pagina? Quelle che io prima chiamavo style guide, passo indietro, come sfrutto le style guide quindi per essere, quello lo vedremo dopo cosa è, che in realtà è contenuto nel titolo, che sono le pattern library. Però a questo punto, dopo che ho disambiguato questa terminologia, ci siamo fasati in tutto il team, chiarendo cosa sono le style guide, in che momento entrano nel progetto, e cosa contengono, mi sono chiesto cosa possiamo fare per poterle sfruttare. Ho innanzitutto la professionalità dell'interface developer, diciamo quello che si occupa del montaggio e dell'interfaccia, può iniziare da qui, non necessariamente quando abbiamo la prima interfaccia pronta per essere realizzata, cioè già da questo momento possiamo favorire la condivisione di informazioni, creando un ambiente comune, quindi metto da qualche parte già queste informazioni, queste style guide, le condivido con tutto il team e prendo dei feedback e magari avrei evitato quel palo che ho preso prima. Questo è un esempio, scendo anche in qualche spunto tecnico, proprio Carla prima parlava della gestione del colore, noi attualmente usiamo questo, cioè giusto per semplificare il fatto di mettere in condizioni tutti di vedere le tonalità che sono state scelte e avere un accesso facile. questo sistema è molto semplice, da uno dei colori primari della palette ne tira fuori altre declinazioni in un modo piuttosto leggibile come la variabile e lo mette facilmente in condizione che sta nel mondo sviluppo di poterle utilizzare, anche perché lato nella style guide sarà mostrato da un qualcosa del genere, questo è un print screen di un pezzo di una style guide, per esempio. Un altro accorgimento sciocco, ma fatto riflettere sempre nell'ottica di questo cambiamento mentale, è l'utilizzo del placeholder che è possibile farlo con un preprocessore come il SAS, questo mi sembra sia. Praticamente noi nelle style guide andiamo a condividere anche quei piccoli elementi che noi chiamiamo tool che preparano gli oggetti per il design successivo. Vanno a sistemare in qualche modo quel qualcosa che useremo di sicuro. In questo caso qui c'è una tabella. Questo prima lo facevo con le classi e andava bene il mio lavoro. Io facevo bene il mio lavoro se questo l'avessi fatto con le classi. Il problema è che il lato sviluppo nella libreria le style guide vedono una classe che fa un qualcosa a loro utile e pigliano e l'attaccano nel DOM e è lecito. Il problema è che quando si verifica poi il fatto che questo tool mi è cambiato nel corso del progetto perché ho dovuto splittarlo in due tipi, uno che prevede il table layout auto e uno fixed, io lato mio riesco a rintracciare tutte le parti che ho esteso, ma va a prendere tutte le parti che sono stati ad attaccare sul DOM. Allora, con l'utilizzo del playsolder in modo molto semplice non lo puoi attaccare sul DOM ma lo puoi estendere lato SCSS. Una sciocchezza che però mi ha permesso di non solo di fare bene il mio lavoro che sarebbe stato fatto bene anche con la classe, ma semplicemente mi sono preoccupato che qualcun altro non generasse involontariamente del debito tecnico. Torniamo quindi a quello che già facevo ma che ho scoperto non si chiamava più style guide ma si chiamano appunto le pattern library perché? Perché la pattern library è un modo formale di documentare soluzioni a problemi di design. Quindi è una documentazione di soluzioni, è una libreria di design pattern. Che cos'è il design pattern? Sono soluzioni progettuali generali a problemi ricorrenti. Un grande grazie va a Christopher Alexander che conia questo concetto del design pattern. Piccolo accenno alla storia. È un architetto perché i design pattern nascono in ambito appunto dell'architettura. Doveva risolvere i problemi in lato urbanistico invece di tirare giù una lista di problemi e di eventuali soluzioni ha coniato questo approccio del design pattern cercando appunto di dire con questa soluzione risolvo questo tipo di problema. Ok? Poi il concetto di design pattern oggi è stato portato a livello industriale e in qualsiasi tipo anche nello sviluppo. Mettiamolo un attimo a confronto per vedere alcune differenze. Da una parte la style guide è connessa alla brand identity la pattern library deriva dalla style guide cioè perlomeno una style guide condivisa e approvata poi va a influenzare il mio design pattern. Da una parte vengono sviluppate nuovi designer dall'altra parte anche un interaction designer perché il design pattern può risolvere problemi di interazione che è di esperienza d'uso. da un lato raramente vengono modificate non necessitano di automatismi da quest'altra parte invece crescono col progetto mano a mano. La mia pattern library diventa sempre più ricca sempre più corposa e vanno manutenute. Automaticamente a me piacciono gli automatismi e mi divertivo con quello che ci avevo prima però mi è sempre fallito su questo tipo di contesto quindi vi ricordo sempre il contesto quello che abbiamo detto all'inizio. perché mi falliva? Perché vuoi il team dinamico vuoi diverse figure professionali ma la curva d'apprendimento per l'utilizzo della sintassi del tool che automaticamente generava le style guide era troppo alta forse o scomoda che nessuno la usava o eravamo in pochi a farlo e quindi il risultato era che la style guide non era aggiornata e una style guide non aggiornata non è che è inutile è pure dannosa, peggio. l'altro motivo era che il tool generava uno scaffolding in una pagina da una parte che era esterna alla nostra applicazione perché parliamo di web application una single page quindi un qualcosa che viene poi messo tutto insieme a javascript che crea un'unica pagina e avere la style guide della pattern library come la chiamerei adesso da un'altra parte la portava in un ambiente non veritiero. Fatto sta che negli ultimi anni noi oggi la stiamo mantenendo manualmente cioè manualmente chi aggiunge un nuovo asset un nuovo design pattern lo aggiunge anche nel modulo della pattern library. È stato più facile far capire il valore di avere una pattern library piuttosto che costringerli a usare uno strumento che per loro era scomodo. Quindi di nuovo questo approccio non cerchiamo di sovrastrutturare o ingegnerizzare quello che piace fare a noi cerchiamo di avere un'ottica più ampia e vedere quello che serve al team. Ok? Qual è il valore? A confronto le style guide orientano studio creativo dall'altra parte fornisce proprio quei mattoncini che servono per comporre la pagina. Da un lato condividiamo informazioni e favoriamo coerenza che è in comune come valore alla pattern library dall'altro otteniamo tracce e soluzioni e sperimentiamo le soluzioni da quest'altra parte le condivisiamo le condividiamo le soluzioni scelte e offriamo un ambiente per i test perché una volta che abbiamo una pattern library quale miglior ambiente potremmo avere per fare i nostri test? Possiamo impostare qui la comparazione dei screenshot facciamo un aggiornamento di qualche dipendenza di qualche framework vado a controllare come prima cosa la mia pattern library se qua tutti i pattern sono a posto molto probabilmente sarà a posto anche l'applicazione non vuol dire non testare l'applicazione ma il primo test sicuramente lo farei qua e quindi mi sono detto va bene visto che ormai ho espanso la mia mente 5 per 2 10? ah ok mi hai fatto prendere in colpo 5 minuti visto che ormai ho espanso la mia mente dico come posso migliorare questa cosa che già facevo con l'automatismo? ok? allora ho detto per prima cosa devo cercare di avvicinarmi ai concetti che sono presenti nel mio team quindi alle varie figure professionali e cerco di pensare l'app in modo anche modulare e questo l'ha fatto vedere con una fantastica slide Carla prima quando aveva fatto vedere che dovevamo avvicinarci anche al mondo dello sviluppo quindi da una parte avevamo i componenti che vengono fuori per esigenza di architettura del software dall'altra parte facciamo combaciare gli elementi anche lato interfaccia del nostro stile e l'altra invece è quella comunque di utilizzare quegli approcci che conosciamo molto bene come l'atomic design il BAM l'object oriented CSS ma non scegliendone uno su quello che mi trovo meglio io scegliendo la soluzione giusta che fa comodo a tutto il team infatti vedremo che in realtà io li uso un po' tutti e tre ritorniamo alla parte modulare questo è un po' come abbiamo approcciato alla nostra web application la nostra web application nasce con un modulo comune che sta in cima nel senso che non può esistere se non c'è questo common module dentro questo common module noi mettiamo tutte le immagini condivise gli stili condivisi la parte del framework che saranno in condivisione tutta quella parte che è trasversale e condivisa con tutta l'applicazione senza di questo non può esistere poi abbiamo i moduli ogni modulo nel contesto delle applicazioni che vi ho detto prima specialmente in quello finanziario sono dei moduli che contengono delle che possono corrispondere alle deadline delle release quindi ogni modulo può contenere tante funzionalità ognuno di questi moduli può essere acceso spento semplicemente perché se rilascio l'applicazione al primo manager avrò tutti i moduli applicazione completa se rilascio all'ultimo promotore finanziario della banca probabilmente due moduli non ce l'ha quando stacco un modulo devo staccare anche tutte le dipendenze non è che stacco il modulo lato architettura il software e poi tutti i CSS e le immagini stanno comunque in comune quello non è modulare quello è fogli stili in comune e poi lo sviluppatore da solo lavora in modo modulare l'altro passo avanti è stato quello di trattare la pattern library come un pezzo dell'applicazione vero non una cosa a parte esterna ma la pattern library è il primo modulo che mettiamo quindi le nostre componenti staranno dentro e usufruiranno dello stesso ambiente degli stessi asset dei moduli ok? tornando invece agli approcci proprio per la scrittura del codice ci torna utile l'atomic design ma io in realtà non vado oltre le molecole cioè nel senso utilizzo gli atomi perché parto dal design ottengo quelle parti in comune le scrivo come atomi più atomi insieme ok mi possono generare molecole basta non arrivo a fare pagine o template posso avere degli elementi più complessi e li scrivo con la tecnica del BEM block element modifier questo è un esempio di blocco che ha i suoi elementi i suoi modificatori perché uso questo? perché non è detto che io devo per forza comporre questo tipo di elemento unendo degli atomi cioè qui se io in lato sviluppo vedono un underscore come per esempio legend style 1 underscore underscore list capiscono che non possono prenderlo e metterlo dove gli pare perché? perché questo elemento è dipendente dal blocco devono prendersi tutto il blocco e utilizzarlo io sto costruendo pagine non devo far costruire le pagine come piace a me devo farle costruire nel modo più utile immaginate di costruire una casetta con le lego no? cioè se io vedessi tutti i pezzi da 1 ma fa comodo se ogni tanto vedo un pezzetto da 10 no? per costruire la casa quindi questo l'utilizzo del BAM insieme all'atomic design non lo vedo in conflitto semplicemente prendo quello che per me è più utile arrivando all'altro estremo parto col design con l'atomic design faccio i miei elementi più complessi che vanno tutti nel common perché sono quegli elementi il bottone l'input la tabella quell'elemento che anche per coerenza sarà sempre uguale nell'applicazione arrivo ad avere gli oggetti gli oggetti hanno sono sempre scritti come il BAM come vedete cioè c'è un blocco un elemento i modificatori ma ha la caratteristica di essere strettamente collegato alla business logic è proprio la parte che non mi deriva dal design ma la rappresento come mi dice il design ma mi deriva dallo sviluppo questi oggetti stanno dentro quei moduli che abbiamo visto prima se stacco il modulo spegnerò anche questo oggetto ovviamente c'è un richiamo a variabili in comune certo, perché? perché l'oggetto ha la caratteristica di essere esposto a tutto quello che è in comune ma lui non espone niente di quello che ha scritto per lui ok? l'oggetto mi torna utile scriverlo come l'SCSS ci insegna con il mixin cioè ottengo un master object che ha le proprietà base che mi permette di farlo esistere e poi ogni volta che lo devo usare lo richiamo non a caso in questi tipi di applicazioni io posso avere un componente lato sviluppo che uso più volte e ogni volta che lo uso ha delle particolarità per evitare 65 tipi di atomi o per evitare un blocco con 65 modificatori faccio prima utilizzare il mixin con il mio oggetto con le proprietà base e poi ogni volta richiamo il mixin e lo estendo per ogni semplice utilizzo non bastava però dopo la style guide dopo le pattern library ero ancora un collo di bottiglia perché? perché per i layout non c'era condivisione quindi prima cosa condividiamo anche i layout insieme alle style guide delle pattern library con una collezione di layout li condivido e ho voluto utilizzare una tecnica che è quella di permettere l'annidamento dei layout in modo che si possano costruire in modo più semplice oltre che il terzo punto ricavare la parte di contenuto scrollabile in modo automatico che vedremo dopo nel dettaglio che cos'è la parte di contenuto scrollabile ora prendo già un esempio di layout vi ricordo che stiamo nel contesto delle web application quindi a differenza di un sito web dove si usa più il flusso della pagina nelle web application si sta più sul concetto di layer e i layout sono organizzati col position absolute con la tecnica del top 0 bottom 0 l'importante è che il contenuto scrollabile quindi quello di content dentro lo scroll deve funzionare sempre in modo corretto se io aumento le barre aumento delle idre o dei footer il contenuto scrollabile deve essere sempre esatto in qualsiasi viewport ok quindi il layout annidabile lo risolto in questo modo io genero un tipo di layout che condivido ne genero un altro che è quest'altro con l'annidamento dei layout posso semplicemente prendere questo layout e metterlo dentro questo ottenendo una cosa del genere questo per me non è un terzo layout io ne ho prodotti solo due poi possono comporli metterli insieme per diciamo ottenere quello che il lato design è stato disegnato questo è possibile perché il position absolute si riferisce la coordinata 0,0 si riferisce al primo relative che se non espresso è body ma anche al primo absolute quindi il secondo layer di layout che è che è questo che ho messo dentro a questo avrà come punto di riferimento lo spigolo in alto a sinistra di content ecco perché si posiziona in questo modo il contenuto scrollabile rimane sempre corretto ma non era abbastanza che palle perché ah piccola parentesi anche per il layout sui mix in perché comunque crea un master layout che poi vado ad estendere in modo che per ogni tipo di blocco del layout posso specificarne le eventuali caratteristiche che emergono lato design dicevo non era sufficiente perché perché nel fantastico mondo finanziario a parità di design di interfaccia a parità di architettura dell'informazione di componente io posso avere che per i dati che mi arrivano per un preciso per un particolare prodotto finanziario io ho più opzioni e quindi lato design si è deciso che per la complessità di questo di questo prodotto finanziario l'utente deve poter avere una barra accessoria per personalizzare questo prodotto finanziario e il fatto è che il layout permetteva a tutti di costruire dei layout annidabili secondo il design ma aggiungendo queste barre si rompeva quel contenuto scrollabile e allora ho detto ok la risolviamo così devo fare in modo che aggiungendo barre il contenuto non si la parte scrollabile non si rompa cosa ho fatto? prima di tutto ti genero i due asset queste sono le due barre vado ad aggiungere alla mia parte queste due barre nuove semplicemente sono adesso non c'è molto lato design perché altro sono strutturali queste proprietà le vado a creare in modo che possono essere prese poi sfruttando un un selettore css che spesso ci dimentichiamo che è la tilde gli vado a dire quella variabile me la cambi se nell'html prima di te c'è un altro elemento ok? proviamo a leggerlo insieme parto dal blocco in mezzo leggo la riga in mezzo lato foglio di stile si leggerebbe così quindi l'elemento html che ha la classe l-subarticle avrà come valore della proprietà top la somma di queste variabili solo se nell'html è preceduto da un elemento che ha classe l-subnav questo tornando al mio layout di prima si legge e stavolta lo leggo dall'alto il mio contenuto scrollabile che è quello che deve essere sempre esatto avrà questa variabile top e è la variabile top che gli permette di mantenere lo scrolling sempre corretto quindi di default ha questa variabile se nell'html prima c'è presente un blocco quella variabile la cambio se c'è due barre invece che una la cambio un'altra volta infatti lato html non è altro che questo cioè io ho il mio subarticle se il subarticle è da solo il contenuto scrollabile e il layout funziona bene se ci metto un altro blocco prima continua a funzionare bene se ce ne metto due continua a funzionare bene ok? quindi anche qua un'ottica di cercare di preparare di facilitare il lavoro anche agli altri nel resto del team in modo da diminuire la diciamo che diminuire il fatto che le persone possano generare debito tecnico che possa diventare io un collo di bottiglia vi lascio con tre con una conclusione spero utile che secondo me la chiarezza terminologica è un vocabolario comune è alla base di una buona comunicazione e con questo miglioriamo l'efficienza la condivisione delle informazioni a tutte le figure professionali del team riduce i colli di bottiglia e gli sprechi di tempo e oltre all'efficienza con questo miglioriamo l'efficacia e inoltre le scelte di un bravo interface developer può fare la differenza certo perché dai tempi dei tempi la nostra professionalità sta sempre in mezzo a due mondi il mondo dello sviluppo fatto dalla mente ingegneristica dove tra 0 e 1 vede 0 elementi e la mente artistica del designer dall'altra parte che tra 0 e 1 vede infiniti i valori ok? questa diversità è una cosa enorme un potenziale enorme all'interno del progetto però dobbiamo agevolarla dobbiamo fare in modo di creare un ambiente costruttivo e un fluire delle informazioni per tutti in modo che tutti possano prendere quelle micro e macro decisioni utili al progetto e non solo a se stessi grazie andiamo a mangiare ero serio te lo ho detto grazie